Dopo ben 12 anni il CAI dell'Aquila riprende le attività della scuola di alpinismo e sci-alpinismo, che per anni ha formato generazione e generazione di alpinisti, aquilani e nonna, di cui è direttore Rubino De Paulis. Per il presidente Vincenzo Brancadoro è un cambio di passo importante, la formazione è uno degli aspetti più significativi del CAI, una scuola che si accosta alle tante attività, consolidate ormai nel tempo, in campo escursionistico, ciclo escursionistico, spereologico, con attenzione all'alpinismo giovanile. Grazie poi alla rinnovata collaborazione con il soccorso alpino e spereologico è stato possibile accogliere nella serie del CAI la stazione di soccorso dell'Aquila. Il corpo istruttore è completamente rinnovato, gran parte sono tecnici di soccorso alpino e l'obiettivo rimane quello di insegnare ad affrontare la montagna in modo sempre più consapevole. Il calendario delle attività è molto intenso, la sezione del CAI inoltre attraverso il centro servizi volontariato ha ottenuto un riconoscimento e ha avuto il finanziamento per il progetto Buon Cammino che permetterà di avere tre volontari del servizio civile al CAI, progetto che si occupa di mobilità dolce, valorizzazione e riqualificazione ambientale. Il CAI possiede anche una delle biblioteche più fornite sulla montagna, ad affiancare il presidente in conferenza stampa anche Ugo Marinucci e Massimiliano Andreassi oltre a De Paulis. Una buona notizia per il CAI è che si potranno fare anche delle attività fuori comune laddove nel proprio non si possa fare. Riprendere dopo 12 anni questo tipo di attività di formazione diventa un punto d'orgoglio ma anche un punto di partenza. Abbiamo attuato un rinnovamento radicale di tutto il corpo istruttori e a questo punto ci troviamo con una delle migliori realtà formative sicuramente in ambito regionale ma non solo e abbiamo l'intenzione di attivare, sempre pandemia permettendo, un corso di sci-alpinismo in primavera, un corso di alpinismo in estate. Per noi oltretutto c'è la concomitanza dell'installazione a metà febbraio, è prevista, di una parete di arrampicata interna alla sede, al primo piano della sede di Via Sassa e sarà quindi il punto, un polo attrattivo anche per le generazioni più giovani sicuramente. Il presidente del CAI tempo addietro quando era con il soccorso partecipò a degli interventi per recuperare degli escursionisti nella stessa zona del Velino, teatro oggi delle operazioni. Inevitabile un pensiero a tutti coloro che stanno portando avanti questa complessa operazione. Io sono stato nel soccorso alpino per 25 anni e il mio cuore sta là, quindi sono con queste persone, con questi ragazzi che stanno dando il massimo per cercare quantomeno di riportare a casa questi ragazzi in ogni condizione.